Ultimo turno prima della pausa mondiale 2022, ultima puntata del Toto Serie A che tornerà poi a gennaio prima della sedicesima giornata. Le partite in programma sono queste, si comincia stasera con l'unica partita di questo venerdì che è Empoli-Cremonese 20.45, poi domani e fino a domenica sera si prosegue con Napoli-Udinese, Sampdoria-Lecce, Bologna-Sassuolo, Atalanta-Inter, Verona-Spezia, Monza-Salernitana, Roma-Torino, Milan-Fiorentina e chiuderà il programma domenica alle 20.45 all'Allianz Stadium Juventus-Lazio. Allora, sono state tutte partite non facili assolutamente da pronosticare perché sono tutte abbastanza, possono cambiare da un momento all'altro, sono partite che secondo me ci regaleranno emozioni, sono partite molto 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 equilibrate quella di questa giornata. Allora, Empoli-Cremonese io ho messo 1-2, o vittoria dell'Empoli o vittoria della Cremonese. Io dico che sono due squadre l'Empoli che gioca in casa, comunque è leggermente più avvantaggiato, buono il suo inizio di stagione per quello che insomma riguarda il campionato che deve fare l'Empoli, il tipo di campionato che deve fare l'Empoli. Cremonese che è ancora in zona retrocessione ma l'approccio contro il Milan difensivo comunque che sa soffrire dimostra che comunque con la Serie A se si impegna potrebbe anche farcela a salvarsi. E quindi non escludo che la Cremonese possa andare in Toscana a fare una partita, sicuramente farà una partita difensivista con l'Empoli che avrà di più il possesso valla. Però non escludo neanche a priori che la Cremonese possa perdere. Quindi tendo a escludere il pareggio e dico o vittoria dell'Empoli o vittoria della Cremonese. Napoli-Udinese ho messo gol, una partita molto complicata sebbene l'Udinese venga da qualche turno negativo, da qualche turno senza vittoria e anche nell'ultimo pareggiato con lo Spezia 1-1. Il Napoli che viene da una vittoria sofferta contro l'Empoli. Io credo che sarà una partita molto equilibrata e quindi dico gol proprio perché sicuramente ci saranno delle reti. Se devo azzardare un risultato dico 2-1 per il Napoli ma sarà un 2-1 molto 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 tirato. Sampdoria-Lecce dico x2. x2 è uno scontro praticamente salvezza se dobbiamo andare a vedere la carta. Lecce ovviamente guardando la classifica più favorito rispetto alla Sampdoria che sta vivendo un momento interno abbastanza complicato. Quindi io dico che secondo me vincerà il Lecce e non tendo a escludere neanche un pareggio. Dico 2-1 Lecce. Bologna-Sassuolo anche qui x2. Una partita anche questa a derby emiliano molto molto bloccato secondo me. Bologna di Tiagomotta che affronta una squadra ripeto sempre molto 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 altalenante. Bologna che viene da una sconfitta sonora contro l'Inter a San Siro. Sassuolo che viene da un pareggio contro la Roma che avevo detto il Sassuolo potrebbe mettere in difficoltà la Roma potrebbe anche strappare un punto o tre punti. Comunque potrebbe portare un diciamo il bottino a casa potrebbe portare qualcosa a casa anche se non pieno però appunto e appunto così è successo. Credo che sarà una partita anche questa molto equilibrata però da vedere anche soprattutto come la interpreta il Sassuolo perché il Sassuolo è una squadra come dico sempre che può fare la migliore partita può tirare la miglior prestazione fuori come può giocare la più brutta partita del suo anno. Da vedere come andrà anche perché il Bologna sicuramente cercherà il riscatto dopo la batosta di San Siro. Come non farlo meglio se non davanti ai propri tifosi. Atalanta-Inter anche qui ho messo X2. Una partita che sarà molto molto complicata. Altro scontro diretto per l'Atalanta in casa dopo quello con il Napoli della scorsa settimana. Inter che l'ultimo scontro diretto fortunatamente l'ha perso contro di noi. Credo che sarà anche questa una partita molto equilibrata. Se l'Atalanta gioca però come ha giocato con il Napoli io credo che l'Inter ne fa 3-4. Cioè proprio lo dico senza problemi. Lo dico proprio senza problemi. L'Inter ne fa 3-4. Bene che sono squadre che giocano tutte e due ultimamente molto male. Molto male. Sia l'Atalanta che l'Inter. Però se l'Atalanta è quella che abbiamo visto contro il Napoli. Insomma che abbiamo visto st'ultime volte. Che non è neanche lontana parente di quella che vedevamo fino all'anno scorso due anni fa. Credo che l'Inter va a valanga a Bergamo. In quello che è un altro derby. Derby Lombardo. Verona-Spezia. Ho messo anche qui X2. Il Verona che vorrà riscattare la sconfitta interna contro di noi ieri. Poi alla fine se c'ho tempo parlo anche del rigore di Danilo. Che non l'ho detto ieri nel post. Poi c'ho Monza-Salernitana. Per quanto riguarda però Verona-Spezia scusate. Credo che sia una partita molto molto difficile. Perché lo Spezia anche lei non viene da una vittoria. Viene da un pareggio. E sappiamo che è una squadra che si chiude molto. Quindi dico che sarà un Verona che farà più il gioco. Tipo ieri contro la Juventus. Farà più il gioco. Gollo-Spezia si chiude dietro e dovrà essere brava ad impostare una partita più di ripartenza. Dovrà essere brava ad impostare una gara che appunto si basi proprio sul catenaccio e contropiede. Monza-Salernitana. Ho messo X. Una partita... Ero tentato anche qui dal mettere X2. Però sono più diciamo propenso a mettere X. Perché sarà una partita secondo me dall'1 a 1. Ecco una classica partita da 1 a 1 con molte occasioni da una parte e dall'altra. Monza-Salernitana due squadre che comunque hanno due allenatori bravi che sanno far giocare la squadra. Insomma anche se Palladino ovviamente ha molta molta meno esperienza di Nicola. Però insomma in queste prime 6-7 partite alla guida forse anche di più. Come sa, anche di più, sto sbagliando. Ha dimostrato di saperci fare. Sarà una partita molto bella dal punto di vista delle occasioni. Dal punto di vista dei... Insomma del gioco. E dico sì, dico X e dico appunto 1 a 1. Perché sarà una partita con molte occasioni e alla fine segneranno tutte e due. Tendo a discludere che ci sarà una goleata pazzesca. Cioè nel senso... Comunque tendo a discludere che sarà un pareggio scoppiettante di quelli tipo 2 a 2, 3 a 3. Però comunque dico 1 a 1 perché sarà insomma secondo me una partita molto bella da vedere. E tutte e due le squadre segneranno. Roma-Torino 1x. Roma che abbiamo visto che contro le squadre della medio-alta classifica. Quindi diciamo 8-11 posto, 8-12 posto. Soffre. Soffre. Il Torino deve confermare il risultato contro la Sampdoria. Andrà all'Olimpico secondo me non per vedere la Roma giocare. E secondo me sarà proprio questa la cosa. Che la Roma farà la sua classica partita impostata dietro come Murigno sa fare. Il Torino avrà di più il pallino del gioco. La Roma ripartirà. E anche la Roma dopo lo Spezia per esempio contro il Verona dovrà essere brava a impostare una partita di ripartenza. Colpendo in velocità la difesa del Torino. Se devo dire un risultato esatto dico 1-0 Roma. Vedo molto molto bloccata come partita. Penultima partita Milan-Fiorentina. Anche qui dico 1-X. Milan che sì, gioca in casa. Viene da una trasferta abbastanza deludente. Più che amara dico deludente contro la Cremonese. Poteva fare di più. È stato annullato un gol ad Orighi. Poi lo stesso ex Liverpool ha avuto insomma altre occasioni. Però il Milan secondo me poteva fare meglio. Data anche la posizione di classifica che ricopre. Anche perché appunto quelle squadre là sopra sono tutte molto raggruppate. Quindi perdere punti è brutto. È brutto per quelle soprattutto che stanno in alto. E dovrà riprendere diciamo il cammino che poi proseguirà dopo il mondiale a gennaio. Con una vittoria con un altro avversario assolutamente ostico. Perché la Fiorentina è un avversario sempre molto ostico. Però come tante squadre hanno dimostrato che se giocano a calcio. Anche una squadra contro la Fiorentina si può battere. Che non è proprio facilissima. Se il Milan gioca a calcio e sa e fa quello che sa. Secondo me il Milan potrebbe anche vincere con un paio di gol di scarto. Due tre gol di scarto. Ecco dico magari 3 a 1. 3 a 0 ecco. Juve Lazio per ultimo. Dico anche qui 1x. 1x. Una Juve brutta. Bruttarella che viene insomma ne viene a capo contro il Verona ultimo in classifica. Con una bruttissima prestazione. Con un gol molto fortunoso. Lazio anche lei che viene da insomma da una. Io avevo detto che sarebbe stata una vittoria tirata contro il Monzallo Olimpico. Sarebbe stata una vittoria secondo me di misura. E così è stato. Credo che sarà una partita in cui anche qui. Una avrà più il pallino del gioco. La Lazio. Una ripartirà e sfrutterà gli spazi lasciati dietro dall'avversario. Ovvero la Juventus. Sarà una partita in cui la Lazio creerà secondo me più occasioni da gol. La Juventus dovrà essere brava. Noi dovremmo essere bravi a essere concreti. A sapere sfruttare tutte le occasioni che ci capitano. Anche perché la Lazio. Secondo me con un avversario contro la Lazio non ci basta fare l'1-0 e chiuderci dietro. Bisognerà almeno farne due per chiudersi dietro. Magari e fa quello che dice Allegri. Ma con l'1-0 la Lazio proprio non puoi dormire sogni tranquilli. Anche se viene da due partite diciamo vinte. Ma non bellissime qualitativamente. E niente. Questo è il quanto. Questa è la schedina della. Di questo ultimo Toto Serie A. Che tornerà dunque abbiamo detto. Presumibilmente il 3 gennaio. Prima della. Il 3 o il 4 gennaio. Prima insomma della. Della sedicesima di campionato. E prima di chiudere il video voglio ricordarvi che martedì comincia Giovani Bianconeri 2 con 23 episodi che si prolungheranno anche fino ai primi mesi insomma del 2023. Anche perché saranno appunto 23 puntate. Quindi facendo il conto 2 puntate a settimana. Saranno 11 settimane e mezza. Praticamente 11 settimane e mezzo. Quindi 4-8. Saranno quasi prenderà quasi 3 mesi. Quindi sì più o meno per. Insomma per. Dopo la metà di gennaio dovrebbe finire. Insomma fine metà gennaio. E niente. Voglio venire un attimo al rigore di Danilo. Perché ieri non. Non l'ho detto nel video. Anche perché ho detto. Non l'ho vista tutta la partita. Quindi. Qualche episodio mi è anche sfuggito. L'ho rivisto dopo. Giusto annullare quello di Bonucci. Di rigore. Però l'arbitro ha detto comunque. Diamogli il rigore. Contro la Juventus. Diamo il rigore. Non si sa mai. Diamo il rigore. Vabbè. Diamo il rigore. Poi è andato a vedere l'Alvar. E gliel'ha tolto. Giustamente perché Bonucci tocca prima il pallone. E poi è stato. E' stato insomma. E' stato calciato. Il rigore di Danilo. Allora. Il rigore di Danilo. Se uno vede. Solo il. Il frame. Della mano. Quello è calcio di rigore tutta la vita. E' calcio di rigore tutta la vita. Ma non è calcio di rigore. Perché. Non so adesso chi è stato. Se Davidovic. Se Arri. Adesso non mi ricordo. Gliela tira intenzionalmente sul braccio. E quella non è mai calcio di rigore. Io non sono d'accordo se si dice. Sulla vicinanza. Quello comunque non era proprio vicinato. Finissimo. Non era che stava a mezzo metro. Che dice. Vabbè. L'ha tirata addosso. Sì. Gliela ha tirata addosso. Quello sì. Ma non è che sta vicino. Non sta vicino. Secondo me non è rigore. Proprio perché gliela ha tirata addosso. Ma non per la vicinanza. Perché. Facciamo altri esempi. Per esempio. Adesso. Oggettivamente. Dico che quello di Desciglio. Ecco. Io lo dico. Quello di Desciglio. Contro. La Juventus. Juve Milan. Che abbiamo vinto 2 a 1. Nel 2017. Quello lì. Non era mai calcio di rigore. Perché era. Quello sì che era troppo vicino. Quello era troppo vicino. E anzi. Addirittura più attaccato al corpo. Se vogliamo fare un altro esempio. Del genere. Ce ne sono tanti. Soprattutto nello scorso anno. Me ne ricordo tanti. Però. Se vogliamo fare un esempio. Mi ricordo. In finale di Champions 2019. Liverpool Tottenham. Quando dopo. 50 secondi. Quello del Tottenham. Alza il braccio. Per. Per dare un'indicazione. Insomma. I suoi in difesa. E. Salah. Gliela tira intenzionalmente sul braccio. Quella non è mai rigore. Nonostante che sia una mano. Che. Sì. Che sta cercando di toglierla. Anzi. Quindi a maggior ragione. Secondo me. Non è rigore. Perché è una mano. Che sta cercando di. Di mettere vicino al corpo. Quindi. Se tu gliela tiri intenzionalmente. Sul braccio a 1. So buono pure io. Gliela tira addosso. E mi prendo il calcio di rigore. È troppo furbo così. E non va bene. Secondo me. È una regola. Che. Appunto. È giusta così com'è. La regola dice. Che. In questi casi. Non va dato il calcio di rigore. Secondo me. È giusto così. Non va dato il calcio di rigore. A termini di regolamento. Sta scritto. Quindi è una cosa oggettiva. Che non si può contestare. Il regolamento è scritto. E non si può. Si può criticare. Ma non si può assolutamente dire. Il regolamento non è così. Quindi. Non è giusto. Il regolamento ad oggi. 11 novembre 2022. È così. E quindi. Il regolamento è giusto. Come è stato applicato. Il regolamento dice. Che il braccio. Anche se è largo. Comunque. Se gli la tiri addosso. Intenzionalmente. Non è rigore. Se gli la tiri addosso. Intenzionalmente. Non è calcio di rigore. Non rompete le scatole. Questo è. Punto. E basta. Però. Sono tornati i ladri. Sono tornati i ladri. Va bene. Contentiamo il popolino. Che dice. Sono tornati i ladri. Vabbè. Finché il popolino medio. Del calcio in Italia. La pensa così. La pensassero così. Si rispettano. La pensassero come gli pare. Tanto. Affari loro. Vabbè. Questo è il quanto. E noi. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.